Salve sono Urbano della Sali Morano e vuoi fare Audi Fucetti. Oggi vi presento la nuova arrivata nel nostro parco vetture usate. Si tratta di questa bella Audi Q5 ed è dell'anno 2010 2000 di cilindrata turbo diesel 170 cavalli quattro ruote motrici unico proprietario vettura con la manutenzione completamente eseguita quindi una vettura controllata molto bene anche sotto il profilo meccanico e ve lo faremo vedere più avanti. Intanto guardiamo i particolari della carrozzeria esterna di questo bel colore bianco e come potete vedere sempre molto brillante presentabilissima all'esterno nonostante i suoi 11 anni di età tutta genuina o qualche graffietto da vettura usata ma veramente veramente presentabile. Andiamo a vedere i particolari anche all'interno della nostra vettura bagagliaio bello ampio pulito da specificare pulito con sotto il nostro pianalino la ruotina di emergenza con il cerchio in lega ruotina gonfiabile quindi una sicurezza anche su strada sensori di parcheggio sensori di parcheggio posteriori e naturalmente anteriori cerchi in lega i suoi originali da 17 pollici con gomme di segno estivo quindi pronte da sfruttare per tutta la stagione estiva. Sul pannello anteriore sinistro troviamo i quattro interruttori dei vetri elettrici e l'interruttore per la regolazione esterna degli specchietti elettricamente e poi abbiamo la posizione per farli rientrare sempre elettricamente molto utile nei parcheggi. Andiamo a fare adesso una panoramica all'interno della vettura. Prima sul cruscotto e dopo andiamo a vedere le specifiche della tappezzeria anche questa molto bella pulita è stata come il nostro solito lavata e igienizzata a vapore con questa lavorazione specifica il risultato come potete vedere è l'avere una un interno vettura bello pulito profumato quindi un'accoglienza sempre all'interno veramente eccellente non ci sono strappi non ci sono buchi non ci sono usure è veramente veramente accogliente andiamo adesso ad analizzare la console centrale. Nel nostro display troviamo sia le stazioni dell'autoradio troviamo anche la misurazione della temperatura che possiamo impostare del nostro climatizzatore automatico sia la temperatura che ho già detto sia il ventilatore quindi tutto sotto controllo abbiamo il cambio manuale a 6 marce interruttore del freno a mano con l'interruttore dell'assistenza al freno a mano abbiamo ancora l'interruttore per vedere i nostri sensori di parcheggio e l'interruttore dell'assistenza per l'andamento lento in discesa i chilometri della nostra vettura sono 158.000 ripeto vettura di un unico proprietario sempre sempre controllata meccanicamente scrittina delle quattro motrici per identificare proprio la trazione e adesso andiamo a vedere altri particolari all'esterno della nostra auto ancora un'immagine del cerchio in lega e lo specifico della nostra gomma estiva sensori di parcheggio anteriori fari fan di nebbia e andiamo adesso a vedere anche il nostro vano motore anche questo molto bello da vedere accogliente con tutte le sue plastiche al loro posto già tutta controllata spinette gommini tubini macchina completamente controllata anche perché le nostre vetture vengono sottoposte ad un accurato controllo presso il nostro service Audi come? seguendo questa list multicontrollo sono praticamente 110 punti specifici da verificare affinché la nostra vettura sia completamente controllata sia possibilmente tutta funzionante dopodiché vi viene spiegato ogni suo particolare infatti con questa certa lista li conosciamo molto specificatamente possibilità di finanziamenti personalizzati che vi saranno spiegati in sede perché abbiamo più soluzioni a questo punto ci viene poi abbinata una garanzia per legge di 12 mesi con possibilità per il cliente di fare un'estensione fino a 24 mesi dopo queste informazioni passiamo a fare un giro di prova su strada e adesso venite insieme a me a fare il giro di prova e nel salire sulla nostra vettura la prima cosa che notiamo è proprio l'accoglienza la pulizia la profumosità veramente ottima a cosa serve il nostro giro di prova? serve a capire il funzionamento generale della nostra auto dalla frizione al cambio scatola di guida sospensioni come si comporta in generale su strada da questi primi metri io che sto guidando mi viene proprio da notare che la frizione è molto morbida il cambio preciso negli innesti quindi un'ottima macchina da guidare a livello di assetto la vettura va dritta su strada quindi ottimo anche quello la scatola di sterzo che in questi incroci la dobbiamo girare parecchio quindi sollecitare la sento precisa senza nessun tipo di gioco quindi sicurezza di guida su strada andiamo adesso a verificare il funzionamento delle sospensioni nella classica strada con le buche anche queste sentiamo sì il loro lavoro ma non ci sono assolutamente rumori anomali assorbono molto bene le asperità della strada componenti completamente funzionanti dal climatizzatore all'autoradio sensori di parcheggio quindi un'ottima macchina ancora da sfruttare un'altra cosa importante se abitate lontano dal nostro punto vendita possiamo prendere un appuntamento telefonico e con una videochiamata in diretta con ognuno di voi presentarvi e spiegarvi specificatamente la vettura ogni punto pregi ed eventualmente difetti affinché se deciderete di venire di persona la vettura la conoscete già ne va della trasparenza del nostro lavoro continuiamo il giro di prova proprio nell'utilizzo giornaliero della vettura motore sempre brillante quindi cambio morbido e preciso frizione precisa e dopo questi dopo aver constatato la vettura che si comporta molto bene torniamo al nostro punto di partenza per le ultime informazioni vi invitiamo a visitare il nostro sito diretto autosani.it dove troverete tutte le informazioni più dettagliate sulla vettura che abbiamo appena visto troverete naturalmente anche il prezzo seguitici poi al nostro indirizzo sanimoreno.srl sui social facebook e instagram dove troverete tutte le informazioni sui prodotti volkswagen e audi che noi trattiamo vi ringrazio quindi per l'attenzione vi aspettiamo vi ringrazio il nostro punto vendita di cucetto naturalmente in tutta sicurezza oppure a telefonare ai nostri numeri vi sarà comunque risposto ad ogni vostra domanda un grazie ancora e come diciamo sempre alla prossima vettura grazie grazie